La pizza è uno dei cibi più famosi nel mondo ed è uno dei cibi che chi mangia collega generalmente all'Italia, quindi l'italianità della pizza è un classico. In effetti di cosa è fatta la pizza? Gli ingredienti base sono pochi e molto semplici, sono gli stessi ingredienti che ritroviamo classicamente nella dieta mediterranea. Abbiamo la farina, la farina di grano duro è una farina che ha un buon potere nutrizionale perché è composta essenzialmente da carboidrati, carboidrati a lenta azione quindi non è il glucosio della bustina di zucchero ma è un carboidrato che viene utilizzato nell'arco di un po' di tempo dall'organismo e quindi fornisce energia, calorie che servono all'organismo per svolgere le sue funzioni metaboliche. Quindi la farina è un componente energetico che fornisce una quantità di calorie abbastanza interessante utile per sostenere l'organismo. Oltre alla farina cosa abbiamo? Abbiamo il pomodoro. Il pomodoro è un componente tipico del Mediterraneo, la salsa di pomodoro in questi ultimi anni è stata molto studiata dal punto di vista salutistico e si è visto che oltre ad avere un potere nutrizionale perché anche il pomodoro contiene un po' di carboidrati, contiene molti liquidi, contiene vitamine, contiene sali minerali, contiene soprattutto carotenoidi e polifenoli che sono delle sostanze che hanno dimostrato un impatto molto positivo sulla salute dell'organismo, in particolare contiene flavonoidi e il famoso licopene. Il licopene è una sostanza tipica del pomodoro che viene ben assorbito dall'intestino e che ha a livello di tutto l'organismo, quindi di tutti gli organi, dal cuore ai vasi sanguigni, al cervello, alla prostata, al fegato, un'azione estremamente positiva soprattutto blocca i danni che i radicali liberi fanno al nostro corpo. Sappiamo che l'olio d'oliva è un altro classico dell'alimentazione mediterranea, l'olio d'oliva è una miscela di acidi grassi e di altre sostanze presenti in quantità molto più piccole, l'olio d'oliva oltre ad avere un elevato potere calorico, perché come sappiamo i grassi hanno 9 calorie per grammo contro le 4,5 dei carboidrati, allora l'olio d'oliva dà un buon apporto calorico ma soprattutto contiene i cosiddetti polifenoli, cioè delle sostanze naturali dotate di una forte azione antiossidante e questi antiossidanti agiscono in sinergia, quindi in collaborazione con quelli del pomodoro per proteggere tutto l'organismo dai danni dei radicali liberi. L'ultimo componente rilevante della pizza è la mozzarella. È chiaro che attenzione, quando parliamo di mozzarella intendiamo la mozzarella quella buona, la mozzarella italiana di origine controllata, non quegli pseudo formaggi che in realtà sono per la maggior parte formati da acidi grassi idrogenati che sono veramente molto negativi per la salute. La vera mozzarella certo che contiene grassi, ne contiene in quantità abbastanza rilevante, siamo intorno al 30%, quindi non pochi, però va tenuto presente che la mozzarella intanto non è quantitativamente la parte dominante della pizza e poi essendoci il pomodoro ed essendoci l'olio d'oliva che sono dei potenti antiossidanti, questi antiossidanti fanno in modo che anche i grassi che la mozzarella porta facciano molto molto meno danni all'organismo di quelli che si avrebbero se si mangiasse la mozzarella da sola. Quindi ecco perché la pizza è un alimento completo, ricco di carboidrati con una quantità adeguata di grassi insaturi, perché i grassi dell'olio d'oliva non sono grassi saturi come il burro, come il lardo, come lo strutto, ma sono grassi insaturi, quindi sono grassi positivi che garantiscono anche un potere calorico interessante. Non dimentichiamoci tra l'altro che nella pizza ci sono i cosiddetti aromi, l'origano, il timo, la salvia, queste piante che sono messe per migliorare il gusto globale del prodotto non sono prive di effetto, non sono solo dei aromi, sono delle piante che hanno delle azioni interessanti, hanno un'azione antiossidante, anche loro potente e in questo lavorano insieme all'olio d'oliva, i polifenoli, al licopene eccetera eccetera. Hanno un'azione antiinfettiva, quindi sono anche dei conservanti se vogliamo, hanno un'azione per esempio antiinfettiva a livello della bocca, quindi hanno un'altra, hanno un'azione positiva sui processi digestivi, per esempio favoriscono lo svuotamento dello stomaco, quindi accelerano la digestione, quindi alla fine la pizza non è altro che un cibo completo, buono, molto molto gradevole da mangiare, ricco di sostanze nobili che sono state combinate in modo tale da favorire i lati positivi e con una quantità di lati negativi veramente trascurabile, quindi un cibo che si può mangiare anche spesso specialmente se abbinato a un buon piatto di verdure. Quindi buona pizza a tutti!